Lucas Cantoro, attaccante dell'Isernia, puntavate a vincere il derby con il Venafro e ci siete riusciti dimostrando di non essere inferiore a nessuno. Sì, sì, questo sicuro. Abbiamo dimostrato di non avere paura di giocare alla pari contro una grande squadra, quindi siamo contenti. Ora siete terzi con 51 punti e questo vi consente di guardare con più tranquillità l'obiettivo playoff. Sì, non solo abbiamo vinto un derby, questo ci permette di stare là, terzo posto, quindi ripeto, siamo molto contenti, abbiamo fatto una partita più che altro di sacrificio. Sofferta tantissimo, però è ancora più bello vincere così e ci guardiamo questa vittoria. Il prossimo turno vi vede impegnati a Sesso Campano contro un avversario comunque da non sottovalutare. Sì, è vero, è un campo difficile, è un avversario che comunque tutti vogliono giocare la grande partita contro l'Isernia, se la giocano al 100%, quindi bisogna stare molto attenti a non molare.